Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Mindtest Sono Mazzetess e oggi vi presenterò una mod che mi è stata consigliata da Alessandro Mauro ed è stata creata da Alessandro Mauro e da Medeo Emmola Questa mod introduce semplicemente un nuovo oggetto che si chiama Obsidian Pickaxe ed è una picca fatta di ossidiana e di ferro Allora in pratica come si crafta? Si crafta con due pezzi di ferro, due lingotte di ferro che danno degli steel stick e i due steel stick con i tre pezzi di ossidiana ci danno un Obsidian Pickaxe Allora, io ho provato questa mod, ve la farò vedere anche a voi e poi dopo vi dirò un poco che cosa ne penso di questa mod Vi faccio innanzitutto vedere un po' come mina i vari minerali Ok, non può minare il diamante Neanche il mese Con il legno è parecchio lenta Infatti si tratta di una picca ed è abbastanza normale Con la lana ha una velocità abbastanza discreta E anche con la terra comunque ha una velocità abbastanza elevata Infatti provando a posizionare dalla terra Togliendola a mani nude Sarebbe comunque più Più lungo Altra caratteristica di questa picca è che come potete vedere Non ha diminuito il suo La sua durata insomma La sua durabilità E quindi è una picca infinita Alla fine dei conti Allora, detto questo Di sicuro devo dire che come picca È una picca molto comoda per il mining Perché comunque si costruiscono tunnel molto in fretta E anche per costruire edifici Demolire edifici Visto che ha comunque una buona durabilità E non ha Non si consuma È una buona picca Il contro diciamo Per quello che Che mi riguarda Diciamo per quello che ne penso io È il fatto Sono principalmente Il fatto che È molto facile da craftare E essendo Utilizzabile in una serie in survival Mi sembra Un po' Un po' troppo facile da craftare Comunque Essendo infinita Due pezzi di ferro E Due E tre pezzi di ossidiana Sono molto facili da Da Trovare E Appunto Ci generano una picca Che è infinita Ci durerà per tutto il tempo È come avere Praticamente una picca di Di diamante infinita Solo che appunto Con la differenza Che questa picca Non minna il diamante E il mese Però Appunto Il fatto che sia così facile Da Da ottenere Un pochettino È uno svantaggio Perché una serie in survival Diventa più che altro Una serie in creative Una volta che abbiamo Una picca come questa Chi ci ferma più Cioè abbiamo praticamente La velocità Della creative Per distruggere i blocchi I blocchi Diciamo Che si distruggono Solitamente con una picca E quindi Secondo me Sarebbe un attimo Da cambiare Il crafting Cioè potrebbe essere Per esempio Un oggetto Molto molto costoso Dato che è infinita Altrimenti Si perde un pochettino Il senso Del gioco in survival Mentre naturalmente In creative Non si ha bisogno Di una picca come questa Perché in creative Si i blocchi si distruggono Già comunque Molto rapidamente Altra questione appunto Mi ha lasciato un po' perplesso Il fatto che sia Infinita Perché Appunto Essendo infinita È un Uno strumento Potentissimo Ed essendo potentissimo Fa perdere un po' Quel divertimento Che c'è nella modalità survival Che è quello di Doversi trovare i materiali Dover sudare In pratica Quello che si costruisce Quello che si distrugge Quello che si mina Mentre con una picca Come questa Si perde un po' Di questo Di questo interesse Altre cose Che volevo dire Il codice Comunque Ho visto Della mod È buono È pulito Ma A parte che comunque Per fare una mod Con una picca Soltanto Non è che ci siano Troppi Problemi Ah naturalmente Oltre alla picca La mod Aggiunge anche Gli Steelstick Insomma Altri pro Però Della Della mod Sono Il fatto che Sia gli steelstick Che L'obsidian pickaxe Hanno una bella texture Apprezzo Soprattutto Il fatto che Per gli steelstick Siano stati utilizzati Vari stecchini Insomma Nella texture Qui presente E non E non soltanto uno Perché potrebbe Per esempio Farlo Confondere Con altri oggetti Già presenti In altri mod In altri mod Invece così È molto È molto carino Anche se magari Suggerisce un po' meno La solidità Di un Di un Di un manico Resistente In ferro Di una picca Così Così potente Devo comunque dire Che Questi due ragazzi Sono stati bravi A fare questa mod E sono contento Che me l'abbiano proposta Per i motivi Di cui ho parlato Poco fa Non lo utilizzerò Nella mia serie Principale In survival Perché Credo che sia Una picca Troppo potente Per essere utilizzata In una In una serie In survival Potrebbe però Essere una buona idea Per un altro Per un altro Tipo di picca Diciamo Magari una picca Con un uso Con una resistenza Molto alta Però infinita Appunto E comunque Cambierei un attimo Il crafting Con qualcosa Di pochettino Più costoso Tipo non lo so Ad esempio Si potrebbe pensare Di utilizzare Dei diamanti Non lo so Una picca Di diamanti E mese Che abbia Una durata Altissima E una velocità Come quella Che ha questa picca Magari aggiungendo Anche la possibilità Di minare Il diamante E il mese Potrebbe essere Comunque Una buona Una buona Picca Essendo che Sia il diamanti Che il mese Non sono così Facili da trovare E quindi Sarebbe comunque Cioè Varebbe la pena Di fare Una picca Una picca Del genere Cioè Il costo Sarebbe ben Ben ripagato Insomma Non sarebbe Una picca Super potentissima Senza Cioè Con un crafting Abbastanza Facile Comunque Detto questo Mi pare che Per la mod Sia tutto Mi pare di avervi Fatto vedere Tutto Se per caso Anche a Medeo O Alessandro Vedessero Le cose che non ho Sottolineato Della loro mod Possono scriverlo Nei commenti Qua sotto Tanto Essendoci pochi commenti Di sicuro Verranno letti E Approfitto di questo video Per dirvi anche Che ho cambiato Cioè che ho comprato Un headset Abbastanza Discreto Cioè Migliore Comunque Del microfono Che avevo In precedenza E quindi Questo dovrebbe Ridurre Il Rumore di sottofondo Presente Della ventola Che si sentiva Comunque Nelle vecchie Registrazioni Io spero Che la qualità Del video Sia venuta Abbastanza buona E spero che Vi sia piaciuto Questo video Vi invito A mettere Un mi piace E a seguirmi Anche sulla pagina Facebook Di cui lascio Sempre il link In descrizione Io vi saluto Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti